buongiorno tanti anni fa c'era uno scrittore noto americano che si chiamava o henry ha scritto tante storie belle una di queste storie tratta di una coppia da poco sposata è natale e ciascuno vorrebbe comprare per l'altro un regalo speciale lui sa cosa vorrebbe lei dei capelli lunghi belli e vorrebbe tanto un petini d'argento per pettinarsi e lei sa cosa vorrebbe lui lui è un orologio d'oro e vorrebbe tanto una catena d'oro per il suo orologio ma non hanno soldi per queste cose tutti e due escono a comprare per l'altro qualche ora dopo lui ritorna con in mano un petini d'argento bellissimo e lei lo spetta con in mano una catena d'oro anche bellissima ma lei è cambiata non ha più i capelli lunghi i belli in quel momento tutti e due hanno capito cosa è successo lui ha venduto l'alloggio per comprare per lei il petini d'argento e lei si è tagliati i capelli gli venduti per comprare per lui la catena che lui vorrebbe ciascuno di loro ha sacrificato il proprio tesoro per fare felice l'altro questo è il vero senso del matrimonio l'arte di dare nel vangelo oggi gesù ci parla della bellezza e dell'importanza del matrimonio facciamo allora tutti una preghiera molto speciale per tutti coloro che hanno scelto il cammino del matrimonio che ogni giorno porti delle nuove benedizioni e che gesù li accompagni ogni passo del cammino arrivederci buona domenica